Musica Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Super e oggi siamo qui in questo nuovissimo video su GTA Online Per fare questa fantastica gara che non ha fatto 3-2-1 ma ha fatto soltanto 2-1, via Una gara stunt, una classica gara stunt Niente, gara abbastanza standard, nulla di particolare, qui non lo so, va tutta a scatti però adesso sistema Attenzione, il freno messo così tanta roba Ci sta, mega discesa, quindi pazzesca Poi c'è una mega salita, che non so perché in salita il mio pc inizia a perdere fps Però poi va tutto fluido, quindi non lo so Comunque siamo in prima posizione con la Drax Quest'auto, secondo me, è spettacolare Che cazzo è successo? Caricamento, ho sentito delle esplosioni, si è fermata la mia auto Caricamento, non capisco Ok ragazzi, praticamente Vi spiego Stavo gareggiando, avete visto che stavo gareggiando tutto di botto Boom boom Eplosioni E praticamente Mi è crashato GTA Ora In lobby c'era un rango 7000 Ok? Sicuramente questo era un moddato di merda Perché sinceramente giocare con le mod fa cacare Poi qua su pc la gente è piena di mod Gioca con i mod menu Fanno cacare E sinceramente rovinano il gioco E purtroppo mi sono rotto il cazzo Sinceramente di Di aspettare un'ora per poi beccarmi Gente che usa i mod menu E quindi raga Ho deciso che questo video purtroppo andrà così E niente Che dire Detto questo Vi saluto Vi ringrazio Noi ci vediamo al prossimo video Da super è tutto Bella raga Noi ci vediamo al prossimo video